Erano dei veri razziatori seriali d'auto, due campani di 60 e 40 anni con una lunga lista di precedenti sempre per reati predatori, professionisti del crimine specializzati nell'asportare dalle auto parcheggiate nei centri commerciali, refurtiva di pregio per lo più tablet e notebook. Ora però si trovano nel carcere di Villa Fastigi con l'accusa di ricettazione, individuati ed arrestati dagli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, dopo una mirata operazione di controllo del territorio che ha visto nella giornata di venerdì impegnate una decina di agenti tra uomini in divisa e in borghese oltre a quattro auto. Gli agenti del commissariato erano sulle loro tracce e venerdì sono stati intercettati nel parcheggio del Fano Center nella seconda parte della mattinata mentre si aggiravano tra le auto parcheggiate con fare furtivo. I due navigati ed esperti malviventi si sono però accorti subito di essere stati adocchiati e hanno tentato di dileguarsi a bordo della loro auto, una Fiat Tipo nuovo modello e hanno imboccato la statale 16. Gli agenti che hanno capito che i due stavano per darsi alla fuga li hanno inseguiti raggiunti e fermati nei pressi di Marotta e sono scattate quindi così le perquisizioni. L'auto, passata al setaccio in un'autofficina, era la loro cassaforte. In uno spazio tra il bagagliaio e il parafango si erano ricavati una botola segreta occultata alla vista che si apriva solo all'interno in un vano appositamente creato. L'auto aveva anche un marchigegno al suo interno che permetteva di aprire lo scompartimento segreto, un cavo elettrico tirando il quale si apriva la botola dove c'era la refurtiva delle due giornate precedenti, diciamo così, di lavoro. Sono stati recuperati una ventina di oggetti, la maggior parte computer o portatili, frutto di una trentina di colpi messi a segno tra mercoledì e giovedì per un valore di oltre 10.000 euro che poi sarebbero stati messi nel mercato nero nelle loro zone di origine. I due campani che alloggiavano in un albergo della zona fanno parte di un sodalizio criminale che operava in diverse province sia marchigiane che anche abruzzesi. Stamattina è avvenuta la convalida del loro arresto da parte del Tribunale di Pesaro e per loro il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere dove ora si trovano in attesa del processo.